Da domani scatta il blocco del traffico per i mezzi inquinanti sul territorio comunale di Venafro. L'opneomologo non esponetevi allo smog nelle ore di punta, le polveri sottili incidono negativamente sul sistema cardiocircolatorio a fuoco incrociato alle 21 approfondimento con Ricci, Principi dell'Arpa e Pillarella della Regione. Anno nuovo, vecchia giunta, nessun accenno al rimpasto da parte del Presidente Toma nella prima assise del 2020, lavoratori GAM presenti in consiglio, Buono, PD, attacca, mentre il Molise muore, i politici pensano alle poltrone. Schianto sulla strada statale 85 Venafrana in cui ha perso la vita il 73enne Fausto Valeri si indaga per omicidio stradale. Luci allevi in tutta la città l'annuncio del sindaco di Campobasso Roberto Gravina che intanto assegna agli studenti il compito di censire la segnaletica stradale. Successo, risate e tanti applausi a Montaquila per l'isistrata commedia di Aristofane portata in scena dal laboratorio, teatrale, il palio, infine lo sport, il calcio, di serie D. Il Campobasso supera la caporista con un supercogliati, autore di una tripletta. In Abruzzo 300 tifosi rosso-blu, l'agnone strapazza la recanatese e sogne play-off domenica da incorniciare anche per il vasto Girardi. Colsaro Aiesi Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. In apertura, lo avete sentito dai nostri titoli, c'è l'emergenza inquinamento nella piana di Venafro. Da domani scatta il blocco del traffico per i mezzi inquinanti appunto sul territorio comunale di Venafro dopo l'ordinanza del sindaco Ricci. Da domani fino al 20 di gennaio. Noi abbiamo parlato questa mattina con l'esperto, con lo pneumologo. Non esponetevi allo smog nelle ore di punta. Ha detto ai nostri microfoni, le polveri sottili incidono negativamente sul sistema cardiocircolatorio. Sentiamo i dettagli nel servizio curato da Nicola De Santis. Da domani e per sette giorni scatta il blocco del traffico a Venafro su tutto il territorio comunale per quei mezzi considerati inquinanti. L'ordinanza firmata dal sindaco Alfredo Ricci ha lo scopo di abbattere le polveri sottili i cui sforamenti nell'ultimo periodo hanno generato particolare allarme nella popolazione. Un allarme che per l'esperto è assolutamente legittimo. È giustificato perché in particolar modo chi risiede nelle zone dove vi sia un traffico veicolare importante come quello dei camion, l'allarmismo è giustificato sì. Ma basta fare una ricerca su internet molto veloce, chiunque lo può fare e si vede l'esposizione alle polveri sottili. Si parla soprattutto delle grandi città, fuori subito Verona, Milano, Torino, proprio le città dove vi è un maggiore traffico veicolare. È ormai scientificamente provato che l'esposizione costante alle polveri sottili può avere effetti molto negativi sull'organismo. Essendo in grado di raggiungere le piccole vie aeree, sono in grado di determinare problemi respiratori. In particolare asma bronchiale, bronchioliti nei pazienti più piccoli, ma anche bronchite croniche o anche favorire o accentuare o aumentare l'evoluzione della BPCO. Ma è noto anche che le polveri sottili hanno una causa anche nelle evoluzioni delle malattie cardiovascolari. In questi sette giorni sarà interessante valutare l'impatto della delibera sindacale sui livelli di inquinamento. Il sospetto della popolazione infatti è che il traffico sia l'ultimo dei problemi per la salute dei venafrani. Intanto però lo pneumologo spiega ai nostri microfoni come tutelare l'organismo dall'esposizione alle polveri sottili. Innanzitutto evitare l'esposizione al particolato. In che modo? Evitando le zone ovvie maggiore esposizione. Evitare le zone dove vi è maggior traffico, maggior volume, maggiore passaggio di veicoli. L'utilizzo di mascherine, ma non quelle che pensiamo noi, ecco la mascherina perché quella non servono a niente, ma delle mascherine che facciano davvero il proprio filtro. e soprattutto se si risiede in zone dove vi è particolarmente l'esposizione, cercare di evitare di tenere le finestre aperte durante l'orario di maggiore esposizione al traffico veicolare. In particolare, se parliamo di traffico veicolare. L'emergenza inquinamento verrà approfondita questa sera nel corso di fuoco incrociato. In studio con la conduttrice Rita Iacobucci ci saranno il sindaco della città Alfredo Ricci, il direttore tecnico dell'ARPA Principi ed in collegamento il capo dipartimento della regione Pillarella. Appuntamento alle 21 ovviamente sulla nostra rete. Anno nuovo, vecchia giunta, nessun accenno in Consiglio regionale. Questa mattina nel corso della prima seduta del 2020 da parte del governatore Donato Toma, una mozione di Aida Romagnolo sulle esigenze degli uffici dei comuni colpiti dal sisma del 2018, l'interrogazione di PD e 5 Stelle sul caos al centro per l'impiego di Campobasso. Questi i temi trattati in mattinata e a seguire i lavori anche i lavoratori della GAM a Palazzo da Immo. Per noi c'era Rita Iacobucci. I temi del lavoro al centro della prima parte della seduta di Palazzo da Immo, in particolare il personale di cui i comuni colpiti dal sisma nell'agosto 2018 hanno bisogno, soprattutto gli uffici tecnici. L'assise ha approvato all'unanimità un atto di indirizzo proposto da Aida Romagnolo che impegna il governatore Toma ad adottare tutte le possibili iniziative per garantire alle amministrazioni assunzioni a tempo determinato. Durante il dibattito è stata sollecitata in particolare da Fontana dei Cinque Stelle l'attivazione del bando per i lavori di pubblica utilità. Non mancano nella discussione nella seduta atti che mirano a risolvere il caos di questi giorni al centro per l'impiego di campo basso, per carenza anche in questo caso di personale e non solo. Oltre ai pentastellati che hanno introdotto l'argomento con Manzo, un'interrogazione della capogruppo PD Michela Fanelli chiede a Toma e Mazzuto quali iniziative intendano mettere in campo per risolvere. Nessun accenno dal presidente della Giunta al rimpasto, prima confermato e poi congelato. I Cinque Stelle gli hanno chiesto di rendere un'informativa all'aula, ma i lavori sono poi proseguiti secondo l'ordine del giorno prestabilito. Ad assistere anche una delegazione della gamma. Ormai non si deve parlare più di ammortizzatore sociale, noi dobbiamo parlare di lavoro, quindi chiediamo al presidente un incontro urgente per cercare di mettere in sicurezza tutti, non arrivare sempre al novantesimo e poi alla fine dobbiamo fare i miracoli per cercare di avere almeno il paracadute della cassa integrazione. Giovedì ci sarà un'assemblea delle maestranze a Boiano, venerdì un incontro con l'assessore Mazzuto. L'obiettivo dei dipendenti dell'ex arena è anche accelerare su iniziative imprenditoriali che si starebbero avviando nel settore avicolo molisano. Qui se ci sta qualcuno che veramente ha le carte in regola e ha un progetto fattibile, visto che di progetti ne abbiamo avuti tanti e sono tutti saltati, chi buono e chi meno buono, però adesso se c'è qualche imprenditore è giusto che venga lo scoperto e prima possibile riesce a fare il macello perché solo con il macello oggi si crea occupazione, ma con le altre piccole cose non si crea l'occupazione. Mentre il Molise muore, la classe politica regionale pensa alle poltrone. Lo ha dichiarato l'esponente del Partito Democratico, Stefano Bono, che ha poi aggiunto se non cambia questo stato di cose, è tanto meglio far parte di una macro-regione. Ancora De Santis. Mentre il paziente muore, i medici continuano ad azzuffarsi. Questo, in estrema sintesi, il parere di Stefano Bono, esponente del Partito Democratico, sulla situazione della giunta regionale. Per Bono, coloro i quali dovrebbero preoccuparsi di creare le condizioni di sviluppo per questo territorio, discutono invece quotidianamente dell'elettro autonomi, dell'eventuale nuovo assessore e dell'eventuale rimpasto di giunta. Il governo regionale continua a condurre una guerra interna che paralizza l'attività amministrativa. Di conseguenza, la classe politica non è in grado di avere un minimo di visione e di mettere in campo una conseguenziale e decente programmazione amministrativa. Se questa deve essere la massima espressione politica, ha proseguito Buono, sarebbe forse auspicabile una riforma istituzionale che consenta al Molise di far parte di una macro-regione. Le persone non riescono a curarsi degnamente negli ospedali pubblici, nonostante siamo commissariati da 12 anni e non si riesce ad azzerare il debito presente. Registriamo un'assenza totale di politiche industriali e del lavoro. Constatiamo lacune sull'attuazione di politiche ambientali di lungo respiro, con la mancata adozione di provvedimenti urgenti per zone particolarmente inquinate su tutto il Venafrano. Non ci sono programmazione e investimenti su infrastrutture materiali ed immateriali che dovrebbero costituire il naturale volano di sviluppo e crescita per questo territorio. Abbiamo dal 92 ad oggi un continuo spopolamento con saldo demografico perennemente negativo che, qualora dovesse continuare, ci porterebbe nei prossimi 20 anni a perdere altri 30.000 abitanti e dal 2018 vi sono 211 anziani ogni 100 ragazzi. Negli ultimi 10 anni abbiamo perso quasi 10.000 posti di lavoro. Il Molise tornerà ad essere obiettivo 1 nella prossima programmazione settennale dell'Unione dandoci quindi delle condizioni di opportunità. Se si dovesse continuare a non avere la capacità neanche di assicurare le condizioni di sopravvivenza per questo territorio ma solo di privilegi per qualcuno ha concluso l'esponente del Partito Democratico allora penso sia utile immaginare un percorso istituzionale differente. D'ora parliamo di cronaca continuano le indagini della Polizia Stradale svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Isernia per accertare le cause e le responsabilità dell'incidente che ha provocato la morte di Fausto Valeri 73enne di Isernia. I veicoli un Fiat W ed una Ford Focus praticamente distrutti in seguito all'incidente sono stati sequestrati e sono stati immediatamente disposti gli accertamenti clinici sul conducente della Ford Focus per verificare se all'atto del sinistro fosse in stato di alterazione da uso di alcol o stupefacenti. Le analisi hanno dato esito negativo sono stati inoltre sequestrati i telefoni cellulari per verificarne il loro utilizzo al momento dell'incidente essendo questa una delle principali cause degli incidenti stradali. l'ipotesi di reato per cui si procede è quella di omicidio stradale e lesioni gravi stradali intanto migliorano le condizioni del 43enne di Alfedina ricoverato in terapia intensiva dopo l'incidente. L'uomo ha ripreso conoscenze ed è ritenuto ormai fuori pericolo dai sanitari. Ancora la cronaca i carabinieri di Termoli hanno fermato un uomo che si muoveva con fare sospetto nella zona tra Rio Vivo e l'area portuale. il soggetto un quarantenne di nazionalità straniera ma residente in Abruzzo è stato accompagnato nella caserma di Via Brasile per accertamenti e a conclusione delle verifiche è emerso che era ricercato a suo carico pendeva un ordine di carcerazione per espiare oltre due anni a causa di vari reati tra cui maltrattamenti in famiglia atti persecutori e furto aggravato. Il quarantenne pertanto è stato arrestato e trasferito nel carcere di Larino. Cambiamo argomento parliamo di una novità che riguarderà la città di Campobasso a breve illuminazione pubblica ovviamente a LED lo ha annunciato questa mattina il sindaco Roberto Gravina nel corso di una conferenza stampa intanto il primo cittadino ha commissionato agli studenti dell'Istituto Superiore Pilla il censimento della segnaletica verticale. sentiamo Cristina Nero La conferenza stampa convocata questa mattina a Palazzo San Giorgio aveva come tema la firma del protocollo d'intesa fra Collegio dei Geometri Comune e Istituto Tecnico Superiore Leopoldo Pilla per l'avvio dei lavori che saranno condotti dai ragazzi del geometra relativi al censimento della segnaletica verticale nel centro murattiano. Oggi sigliamo un protocollo d'intesa con l'Istituto Pilla Indirizzo Ambiente e Territorio e il Collegio dei Geometri una bella filiera istituzionale che porterà a censire la segnaletica verticale del centro murattiano di Campobasso per noi è un adeguamento normativo perché è prevista e siamo su questo carenti però è un passaggio importante perché andremo a catalogare e a georeferenziare ogni segnale stradale in maniera tale da identificarlo con un numero specifico anche con un codice informatico e tanto da avere la situazione completa diciamo della segnaletica per poter meglio intervenire per la manutenzione per la segnalazione e ogni altro intervento inerente appunto alla segnaletica e quindi l'intera sicurezza della viabilità cittadina. Entusiasta la preside della scuola di via Veneto che ha parlato di una importante opportunità di formazione per i ragazzi e Marco D'Angelo presidente del collegio dei geometri di Campobasso che ha annunciato la disponibilità anche ad altre collaborazioni ovviamente sempre a titolo gratuito per offrire al comune la possibilità di generare lavoro detto questo sempre nell'ambito dei progetti inerenti al rifacimento della segnaletica il sindaco ha annunciato la sottoscrizione a breve di un nuovo contratto d'appalto che consentirà di trasformare l'attuale illuminazione pubblica con luci a led cambierà perché finalmente tutta Campobasso sarà appunto illuminata con lampade a led quindi verranno sostituite tutte le lampade e sarà anche l'occasione per poter modificare un po' l'assetto degli impianti di illuminazione anche raggiungendo qualche contrada perché no perché sappiamo che ci sono ancora delle contrade che sono ai noi al buio sarà un modo anche per efficientare la distribuzione delle lampade perché ci sono delle zone di Campobasso che magari sono molto illuminate e altre no quindi è un appalto importante lo stiamo portando a termine iniziato con la vecchia amministrazione e quindi speriamo all'inizio del mese di marzo finalmente di fare il passaggio tra il vecchio gestore e il nuovo Campobasso piange la scomparsa del titolare di Music Store nonché personaggio della movida cittadina e pioniere della Radio Libere Fabrizio Potenza aveva 55 anni ed era uno dei personaggi più noti nel mondo della musica aveva iniziato a lavorare nelle radio quando aveva solo 13 anni ed è stato uno dei primi ad organizzare eventi nei locali di Campobasso tra la metà degli anni 80 e gli inizi degli anni 90 quando il capologo era nel suo periodo di massimo sviluppo questa mattina la notizia della sua morte ha lasciato sotto shock le migliaia di persone che conoscevano Fabrizio che in qualche modo erano entrati in contatto con lui apprezzandone il garbo l'ottimismo e la gioia di vivere allora andiamo a Termoli fermo pesca è polemica è mancata la concertazione questa l'opinione di Basso Cannarsa dell'associazione Armatori Molise sentiamo il contributo del nostro inviato Giovanni Cannarsa il nuovo fermo pesca non mette tutti d'accordo le giornate aggiuntive che sono state previste per la prossima estate rischiano di mettere realmente in crisi un comparto che già le prese con mille problematiche inizialmente si era espressa soddisfazione in Molise il fermo biologico sarà osservato nello stesso periodo dello scorso anno dal 17 agosto al 15 settembre tuttavia non mancano i malumori come quelli dell'associazione Armatori del Molise che nello scorso weekend ha tenuto un'assemblea dove è emerso tutto il disappunto nei confronti della decisione presa dal Ministero per le politiche agricole e forestali è stato pubblicato all'insaputa di tutti un decreto il 30 dicembre dove appunto sono previste le interruzioni temporane di attività di pesca per l'anno in corso oltre a misure di regolamentazione di attività di pesca per il tirreno queste misure contrariamente a quanto ci aspettavamo penalizzano ancora la nostra attività perché rispetto all'anno precedente ci danno ulteriori 10 o 13 giorni di pesca di fermo rispetto appunto all'anno precedente questo con grosse ripercussioni sull'attività economica che noi svolgiamo fanno queste cose senza tener conto appunto della peculiarità della nostra attività del condimedio e tutta un'altra serie di fattori legati appunto ai cicli stagionali che segue la risorsa ittica tre anni fa secondo Basso Cannarsa era stato annunciato che per il futuro le giornate di fermo biologico sarebbero state ridotte e invece si è verificato l'esatto contrario nel 2017 in una riunione fatta dal ministero col direttore della pesca c'erano state insomma anticipate queste misure dicendoci che sarebbero state ridotte gradualmente anno per anno nell'ordine di due o tre giornate aggiuntive all'anno quest'anno ce l'hanno più che raddoppiate noi tengo a precisare che già le nostre attività svolgono mediamente dai 130 ai 150 giorni di attività all'anno pur pagando tutte le tasse e i contributi per 365 come tutte le aziende andando a ridurre ancora di 20 giorni stiamo parlando di circa due mesi di attività in meno quindi è devastante per le nostre imprese la polemica riguarda anche gli indenizi per il fermo che per diverse imprese della pesca non sono stati ancora corrisposti ci sono imprese che ancora devono avere il ristoro per l'anno 2017 2018 e 2019 una delle novità appunto di questo decreto pubblicato appunto il 30 dicembre è che a differenza degli altri anni è scritto chiaramente nel decreto salvo reperibilità dei fondi questo significa che se i soldi non bastano qualcuno non prenderà il premio pur avendo effettuato l'arresto temporaneo da un lato c'è molto scoraggiamento però è la nostra attività nella quale abbiamo investito tutto capitali e vita perché la vita nostra è qua e quindi cercheremo sicuramente di reagire a questa situazione successo risate e tanti applausi a Montaquila per l'Isistrata commedia di Aristofane portata in scena dal laboratorio teatrale Il Palio e allora vediamo il contributo A causa della guerra del Peloponneso gli uomini delle Poleis greche gli uomini delle città stato indipendenti della Grecia sono perennemente impegnati nell'esercito e non hanno più il tempo di stare con le loro famiglie le donne di Atene e di altre città vengono coinvolte dall'Isistrata interpretata magistralmente da Fabiana Paolone che propone loro lo sciopero del sesso in segno di protesta finché gli uomini non firmeranno la pace si rifiuteranno di avere rapporti sessuali L'Isistrata commedia di Aristofane è stata portata in scena sabato sera a Montaquila dal laboratorio teatrale Il Palio di Rocchetta al Volturno un'esibizione esilarante battute dialettali musica canti gli attori non professionisti guidati impeccabilmente dal regista Pino Tomassone da una vita immerso nel teatro si sono calati perfettamente nella parte un braccio di ferro tra uomini e donne che vedrà ovviamente trionfare il gentil sesso il tutto in chiave eronica con sullo sfondo la figura della donna ed il ruolo mutato nel tempo non pensavo che il livello fosse così alto il commento del sindaco di Montaquila Marciano Ricci che insieme a tanti concittadini ha assistito con grande piacere allo spettacolo che andrà in scena un'ultima volta prossimamente all'auditorium della provincia di Isernia e sì perché all'orizzonte per l'associazione Il Palio presieduta da Maria Lucia Pontarelli c'è una nuova sfida l'uomo certo e allora vediamo che tempo farà nelle prossime ore con il meteo queste le previsioni per martedì 14 gennaio condizioni meteorologiche tutto sommato discrete sulla nostra regione la giornata sarà caratterizzata da momenti soleggiati alternati a qualche annuvolamento ecco le temperature Campobasso 2,9 Isernia 0,11 Termoli 7,12 Venafro 1,12 bene tutto per questa edizione l'informazione torna in diretta alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante ora la linea alla regia per qualche consiglio per gli acquisti torniamo con lo sport con l'impresa del Campobasso trascinata da un Cogliati strepitoso che si è portato a casa il pallone autore di una tripletta Campobasso che ha battuto il notaresco la capolista notaresco con 300 tifosi al seguito è andata bene anzi direi benissimo anche ad Olimpia Agnonese e Vasto Girardi bene anche nel Futsal Cus Molise e Sporting Venafro tra pochissimo Lo sport il calcio di Serie D con la schermata vediamo i risultati che sono maturati ieri raggruppamento F diciannovesima giornata Mezzano San Giustese 0 a 1 Jesina Vasto Girardi 2 a 3 Matelica Montegiorgio 3 a 2 Olimpia Agnonese Re Canatese 2 a 1 Pineto Chieti 1 a 0 Porto Sant'Elpidio San Marino 1 a 1 San Nicolò Campobasso 1 a 3 Tolentino Atletico Fiuggi 1 a 1 Vastese Giulianova 1 a 1 La classifica in testa c'è il San Nicolò che però rallenta quota 46 Matelica 40 Re Canatese 36 Campobasso 35 Vastese e Montegiorgio chiudono la zona a playoff con 30 punti insieme al Pineto poi Olimpia Agnonese a 29 Atletico Fiuggi 25 con il Vasto Girardi Torentino 22 San Giustese e Porto Sant'Elpidio 20 Giulianova 19 Chieti 17 Vezzano 15 San Marino 13 punti Jesina all'ultimo posto 12 punti e allora lo abbiamo visto dalla grafica il campo basso ha espugnato il campo della prima della classe con una prestazione eccezionale da parte di tutta la rosa in particolare esaltante la prova di Pietro Cogliati autore di tre gol Cogliati che si è portato a casa il pallone vediamo il contributo è il big match della seconda di ritorno prima contro quarta ma con ben 14 punti di differenza impensabile alla vigilia della stagione tre pali debutta Scotti a sinistra gioca il 2001 Morganti a centrocampo Dornamele Cancelli Mezzala sono tre quarti maglia da titolare a Liguori davanti il tandem Sensovini Romano per contro campo basso primo di Alessandro per la squalifica al suo posto Musetti Zammarchi Cogliati a supporto 4-3-3 comincia molto meglio il notaresco corto aggressivo con le distanze giuste nono minuto Cancelli per Frulla una sorta di rigore in movimento sinistro alto quindi Cancelli arma il mancino qualcuno devia blocca Raccichini diciassentesimo invito di Liguori perfetto l'inserimento di Frulla che però non trova la porta un attimo prima testa di Romano Raccichini blocca versetto opposto grande copertura difensiva di Marco Sensovini a quasi 40 anni anche questo chapeau si fa vivo il campo basso con Cogliati pericolo numero uno sinistro da fuori deviazione bel riflesso di Scotti 42esimo Raccichini prima sbaglia in fase di rilancio poi rimedia sul tentativo di Cancelli passa un solo minuto errore banale a centrocampo dell'under Jacopo Morganti ingenuità che innesca il contropiede ospite fulmino e letale da Zammarchi a Cogliati che brucia tutti e infila Scotti 1-0 abbio di ripresa il solito Cogliati spunto agevolato però dall'opposizione troppo morbida dei difensori del noteresco sinistro non irresistibile tutt'altro che immune Scotti palo rete 2-0 campo basso esce Mele entra Gaetani che si piazza tra le linee frulla regista Liguori-Mizzala dodicesimo la traccia di Liguori soprattutto l'assist di Sanzovini di testa Romano accorcia le distanze al ventesimo Blando rileva Cancelli a 10 dal termine Stivaletta per Frulla in cabina di regia Blando che al trentottesimo illumina lancio millimetrico per Romano provvidenzialmente contrato da Martino subito dopo servito da Stivaletta Sanzovini timbra il palo ma in posizione di fuorigioco nel primo dei quattro minuti di recupero espulso il sindaco Rosso diretto figlio di un malinteso con Zanellati di Seregno primo assistente dell'arbitro Restaldo di Ivrea notaresco in 10 52esimo Tris ospite la firma del solito Cogliati migliore in campo il classe 92 scippa il pallone a scotti si invola nella metà campo di fatto incustodita e segna a porta vuota 3 a 1 campo basso terzo KO in 19 gare secondo al Savini porta male la diretta tv Matelica a meno 6 6 punti recuperati nelle ultime tre partite ed ora all'Olimpia agnonese che fa festa con Diarrà e con E Granata bravi nel superare al Civitene la terza forza del raggruppamento la Re Canatese allora vediamo anche qui i riflessi filmati con i gol del match l'emergenza non ferma l'Olimpia agnonese Granata senza Viscovic e Minacori squalificati a costa infortunato capaci però di fermare la terza forza del campionato ma in partita è strapazzata da un 11 quello Granata davvero arremmante subito Alto Molisani con il piede sul gas Nicolau da angolo crea la prima insidia agnonese pericolosa un chiaro messaggio per la Re Canatese spaventata anche da Dercole Lob preciso davvero bello sprecace con l'aiuto della traversa limita i danni poi a sorpresa gli ospiti mettono la freccia il molisano Borrelli è capace di sfoggiare colpi di genio come questo Mejiri non può farci davvero nulla Giallorossi avanti meritatamente infatti puniti poco dopo l'agnonese ci mette un attimo a riequilibrare il match con Diarrà Sassata che sorprende sprecace Sassata che merita di essere rivista il Civitelle esplode in campo c'è solo la squadra di Pizzi mentre l'area canatese si vede ancora su calcio di punizione ancora Borrelli qualche metro più indietro sempre col destro angolo opposto questa volta la sfera finisce fuori 1-1 e squadre negli spogliatoi ripresa in linea con quanto successo nella prima frazione di gioco Nicolao angolo corto 1-2 conclusione che sfiora il palo brividi per la recanatese ancora Nicolao sempre lui propizia il vantaggio degli altomolisani l'azione prolungata insistita l'agnone con Capardi attacca testa bassa con E è nel posto giusto al momento giusto e trova il 2-1 che spedisce i Granata a ridosso della zona playoff nuovo obiettivo dell'ambizioso club del presidente Marco Colaizzo non succede più nulla a sfiorare il Tris e Amaia con un destro bello e sfortunato con E porta a spasso un po' di avversari mentre la recanatese non c'è e così a fare festa alla fine è la formazione di casa una grande festa una festa meritata ora il calcio regionale iniziamo dal torneo di eccellenza con l'aiuto della nostra grafica vediamo tutti i risultati che sono maturati nel weekend Capriattese Acli Campobasso e Campodipietra 1-2 Alife Vairano 0-12 Bananello Isernia 2-1 Boiano Polisportina Campobasso 1919 Termoli 1922 2-1 Rocca Sicura Venafro 3-0 Sesto Campano Pietramonte Colvino 3-0 Treppini Matese Real Guionesi 1-1 in testa al primo posto in classifica c'è Comprensione Vairano con 42 punti Venafro e Treppini Matese ne hanno 39 poi via via tutte le altre formazioni andiamo in promozione le gare del weekend 18esima giornata Biccari Spinete 0-1 Campomarino Alafidelis 2-1 Carovilli Volturnia 1-3 Castelsangro Cliternina 3-0 Donche Il Sagnone Atletico San Pietro in Valle 2-0 Maronea Polisportiva Fortore 0-0 Calena Ripalimosani 1-2 Torrevecchia Ururi 0-2 Trivento Termoli 2016 2-2 in classifica in testa al primo posto c'è il Castel di Sangro con 41 punti Ururi 37 Ala Fidelis Trivento e Maronea 29 poi via via tutte le altre formazioni Ci occupiamo di Futsal con le parole del tecnico del circolo La Nebbia Cus Molise Marco Sanginario ovviamente molto soddisfatto dopo la scorpacciata di gol dei suoi sabato pomeriggio contro l'ultima della classe lo ha intervistato Franco Presutti Marco, gara un po' surreale contro il Bisceglie ma ovviamente si sapeva Beh sì lo sapevamo, sapevamo che il Bisceglie ha avuto qualche problemino a livello societario e sarebbe venuta con l'Under-19 e niente, è stato un allenamento, credo che dopo la partita di Coppa di Mercoledì che è stata una vera battaglia, siamo stati veramente fortunati a trovare ora il Bisceglie Onestamente oggi abbiamo giocato contro di loro ma la testa era già regalbuto dove affronteremo una partita difficilissima Oggi non abbiamo avuto ammunizioni, infortuni, insomma è andato tutto bene il risultato lascia veramente un po' il tempo che trovo Hai citato la gara di Coppa, sconfitti ma sicuramente a testa alta Beh sì, rimane anche un po' di rammarico per le tante occasioni da rete sprecate però va bene così, siamo usciti contro una delle squadre se non la più forte dei tre gironi della Serie A2 e quindi siamo contenti, veniamo da una scia positiva che parte da Real Cefalù, insomma tutto lascia promettere bene per questo 2020 Quota 25 in classifica, ci sono i presupposti per fare bene anche in questa seconda parte del campionato Beh sì, dobbiamo lottare per i playoff per raggiungere una salvezza tranquilla era quello che dicevamo all'inizio dell'anno e da quella zona non siamo mai usciti e non vogliamo uscirci Certo è che bisogna sempre vedersi dietro perché se pensiamo che la quarta precedentemente stava a 4-5 punti da noi quindi è una classifica cortissima anche perché la terza ultima giocherà con la quarta ultima per i playoff quindi guardiamo dietro e prima raggiungiamo l'obiettivo stagionale e prima potremo divertirci e darci degli obiettivi successivi Ha esordito un ragazzino, Michele Marro? Beh sì, è anche segnato quindi ci fa estremamente piacere ma soprattutto è un esempio per i giovani perché l'ho detto negli spogliatoi era l'unico che era uscito col fiatone non per i suoi 40 anni ma perché ha dato tanta vitalità al gioco cosa che era difficile perché onestamente una partita del genere non aveva grossi stimoli da parte di tutti e invece un ragazzo a 40 anni ancora riesce ad averli e quindi credo sia veramente lui l'esempio per i più piccoli Dal Cosmolisi allo Sporting Benafro raggiante il tecnico dei bianconeri Massimiliano Matticoli dopo il successo dei suoi di sabato in Coppa contro Acerra con i padroni di casa che hanno guadagnato l'accesso il pass per il terzo turno Mister Matticoli Allora l'anno si apre nel migliore dei modi una bella vittoria contro una buona squadra come la Cerra ci sono tutti i presupposti per poter iniziare una seconda parte di stagione col piede giusto Siamo molto contenti per il risultato era un po' che mancava e iniziare l'anno con il piede giusto era il nostro obiettivo ci siamo riusciti speriamo che sia di buon viatico per il campionato e per la prossima di Coppa sì, una buona partita più difficile di quello che forse si è visto in campo per tanti versi però buono portare a casa questa qualificazione La mossa tattica di spostare Moragas come centrale un giocatore molto molto offensivo che però nel nuovo ruolo oggi ha disputato davvero una grandissima partita in tutte e due le fasi Sì diciamo che per alcuni versi l'avevamo già pensato prima adesso per tante vicissitudini ci siamo convinti il ragazzo pure mi sembra abbastanza convinto di quello che stiamo proponendo in campo oggi è stato veramente bravo sia nella fase di non possesso sia nella fase di possesso perché poi da lui partivano anche le nostre azioni e siamo molto contenti di Lucio ma un po' di tutti È stato un mese di dicembre un po' difficile per tanti motivi è superato il Venafro può guardare con ottimismo al futuro d'altronde l'obiettivo di questa società era quello di fare un ottimo campionato ottimo significa salvarsi tranquillamente e qualcosina di più questo Venafro visto oggi può ambire ad un campionato di buon livello in questa seconda parte di stagione? Sicuramente il mese di dicembre è stato pesante più che altro perché ci siamo riadeguati a dei cambiamenti portati dal mercato e quindi non è stato semplice ora abbiamo trovato un po' di una quadratura un gruppo di lavoro che sta lavorando bene da tre settimane io penso che comunque siamo abbastanza in linea forse secondo me ci manca qualche punto lasciato qui e lì però molto contento io per questa qualificazione in Coppa perché adesso siamo a una partita dalle finalite in campionato c'è un girone di ritorno da giocare siamo in una posizione abbastanza buona anche per guardare avanti il pensiero è quello sempre di guardare in maniera ottimistica al futuro ed ora il basket con la grafica vediamo i risultati che sono maturati sul parquet del campionato di femminile di serie A2 sedicesima giornata con l'importante affermazione della Magnolia Campobasso nel big match contro San Giovanni Baldarno 64 a 58 in esterna diamo uno sguardo anche alla classifica dopo le gare che si sono disputate ieri con Faenza, Magnolia e La Spezia in testa con 24 punti poi via via tutte le altre e chiudiamo con un'altra grafica con altri numeri quelli relativi invece al volley femminile di serie B1 il raggruppamento di undicesima giornata con l'esploit esterno dell'Europea 92 Isernia che ha vinto a Modica per 3 a 1 ha riposato Virtus Orsogna gli altri risultati li vedete in grafica così come in grafica vediamo la classifica con in testa il Cerignola con 29 punti Agrigento 24 poi via via tutte le altre formazioni l'Europea 92 a quota 14 insieme a Castellana, Grotte e a Fiamma Torrese bene, è tutto anche con l'informazione sportiva grazie per aver scelto la nostra informazione arrivederci, buon pomeriggio, grazie